Sono ore bollenti e non per il caldo africano in arrivo allo stabilimento FIMER di Terra Nuova Bracciolini dopo il decreto del Tribunale di Arezzo che ha ritenuto inammissibile l'istanza presentata dai soci sulla base di un accordo all'ultimo tuffo con Greboel McLaren di proseguire con il concordato e rimandato tutto al Tribunale di Milano. Nelle scorse ore c'è stato un incontro tra le organizzazioni sindacali, la proprietà e il CDA. Oltre a spiegarci e metterci al corrente che loro comunque presenteranno istanza da qui a qualche giorno per la richiesta di un nuovo concordato dove all'interno ci dovrebbero essere dai 4 ai 5 potenziali investitori ciò che chiedevano a noi come organizzazioni sindacali era riprendere l'attività produttiva e quindi spiegare ai lavoratori che a fronte della loro nuova richiesta di concordato sarebbe stato importante riprendere l'attività produttiva perché è evidente che se si presentano di fronte al Tribunale di Milano con l'ennesima richiesta di concordato con 4-5 potenziali investitori ma la produzione non è ripartita c'è qualcosa che stona e che è una palese contraddizione. Quello che noi abbiamo avanzato come organizzazioni sindacali era una richiesta molto semplice per ritornare tutti a lavorare se avete trovato un accordo con Greybull è perché ci sono delle condizioni che sono state accettate dagli stessi azionisti quindi qual è il motivo di ripresentare un nuovo concordato dove non c'è più solo Greybull ma ci sono altri 5 investitori. Questa istanza avrà dei tempi tecnici quindi alla richiesta di riprendere la produzione e immagino che per il momento sia un no. Per il momento non riprendiamo la produzione anche perché avendogli fatto quest'unica richiesta di presentare un'istanza di concordato con Greybull nonostante l'azionista rimarchi la volontà di continuare le trattative con Greybull ritiene però valore aggiunto riallineandosi guardastrano con il consiglio di amministrazione anche a presentare ulteriori investitori 4-5 potenziali investitori per noi questo non è chiarezza non è trasparenza per noi questo è un voler per l'ennesima volta prendere del tempo che non abbiamo più per mille motivi e quindi continua l'occupazione e lo stato di agitazione con il fermo dell'attività produttiva e ti dirò di più dalla luce delle verifiche che stiamo facendo anche come organizzazioni sindacali ci spingeremo anche oltre perché penso che vada messa la parola fine a questa vertenza per il rispetto che deve essere dato ai lavoratori e noi chiederemo anche faremo anche un esposto alla procura della Repubblica esponendo alla procura della Repubblica tutta quella che è stata la vertenza dal momento in cui ABB ha ceduto a FIMER fino ad i giorni nostri